Questa mattina sono tornato nel CLST, il cordone libera speronatura totale che abbiamo visto quest'inverno durante la potatura. Il vitigno con cui abbiamo a che fare è pino bianco messo a dimora nel 2012. La gestione in verde ha richiesto solamente tre cimature eseguite a partire dalla prefioritura. Come possiamo vedere la chioma è espansa e i germogli sono adeguatamente assurgenti. I grappoli, che si trovano in condizioni di luce e ombra ottimale, non mancano. In questo caso specifico il CLST viene gestito nella media delle annate con 50-55 ore per ettaro, vendemmia compresa. Il CLST è un sistema di allevamento adatto ai vitigni dotati di buona surgenza e buona fertilità delle gemme basali. Vi saluto dicendo che il CLST non è un obbligo, è un'alternativa che in determinati contesti può dare dei risultati sicuramente molto soddisfacenti. Vi invito a iscrivervi al canale se volete rimanere aggiornati su questo sistema di allevamento.